Mi hanno chiamato al telefono e mi hanno detto che Clara è gravissima, non potrà camminare, parlare, imitare, non potrà capire. È una delle pittrici con più successo che io conosca, fa mostra in tutto il mondo, è richiestissima. Mi piace appunto dipingere con gli spray perché c'è a disposizione tutti i colori che vuoi e il colore è vita. Storie straordinariamente normali, questa sera alle 23.05 su TV2000.